Amici di Nostro Mare tre anni nel quale non ce n'era per nessuno, quel gommone andava veramente bene, andrebbe bene tuttora se non che l'attività ti ha un po' riportato a doverla seguire più da vicino perché è un momento particolare per la nautica e giustamente tu hai preferito in questi due anni lasciare spazio anche agli altri così qualcuno ha potuto godere. Certo, è vero, buongiorno a tutti, diciamo che quest'anno era forse l'anno favorevole, non ho partecipato in quanto era stata diagnosiata fatto un errore purtroppo medico durante una visita, invece si è rientrato tutto quanto, non ho assolutamente nulla quindi diciamo che quest'anno è andata così e vediamo se il prossimo anno riusciremo ad essere presenti sui campi di gara. Noi ce l'auguriamo ovviamente ma oggi siamo venuti per vedere poi che cosa c'era dietro a tutti questi successi, la motonautica Zandri una realtà importante quasi quasi nel centro di Roma perché qua siamo alle porte del centro di Roma, siamo qua sul Tevere, siamo venuti a vederla, a scoprire quello che c'è dietro anche perché ricordiamo che poi tutte queste lavorazioni che voi eseguite delle barche da diporto in qualche modo poi appartengono anche al mondo delle corse ovviamente su livelli differenti però certe lavorazioni, la posizione esatta di un motore, la cura dell'imbarcazione, la regolazione stessa della meccanica e del motore, la scelta dell'elica, sono tutte componenti che poi appartengono anche ovviamente a livelli più alti nel mondo delle corse. Ma sì diciamo che proprio lo studio del fatto sulle imbarcazioni da corsa ci permette di essere un po' più, di affilare un po' più la... Di sentire più la barca Diciamo di sentire più la barca e quindi le esperienze le riusciamo a trasferire dal mondo delle corse al mondo del diporto creando ovviamente imbarcazioni non soltanto performanti in termini di prestazioni velocistiche ma anche in termini di prestazioni di doti di navigazione, di risparmio di consumi In quanto sicuramente voglio dire avere un assetto ed un'elica giustamente regolate permettono di essere un po' più parchi con i consumi E questo noi lo ricordiamo sempre, vale per il diporto, vale anche nelle corse, anche se nelle corse ovviamente il consumo non conta però anche lì non è detto perché poi il pesavordo dell'incarburante per voi è importante Quindi consumare poco vuol dire poter imbarcare qualche litro in meno che per voi qualche chilo in meno è sempre determinante Quindi è un discorso che vale per entrambi chiaramente su due livelli differenti Assolutamente, noi qui nel cantiere cerchiamo di seguire tutte quelle che sono le lavorazioni necessarie affinché il cliente possa ovviamente beneficiare di tutto quello che un'imbarcazione può dare Anche perché non è solo un discorso sul consumo ma è anche un discorso che l'imbarcazione stessa è soggetta meno allo stress, meno alle sollecitazioni Perché quando navica pulita, navica bene e si è trovato l'assetto, si è trovata la distribuzione dei pesi giusta, l'elica giusta È chiaro che l'imbarcazione subisce meno quello che è poi lo stress della navigazione stessa perché il mare non è che sia sempre come il lago di Como Certo, noi diciamo che abbiamo qui davanti uno specchio d'acqua che ci permette di fare le prime regolazioni Che poi vengono ovviamente sistemate e perfezionate in mare perché insomma essendo sul fiume le condizioni dell'acqua è un'acqua ferma dove sia soltanto corrente Allo sbocco ovviamente è arrivato dal mare, abbiamo visto oggi che stavate portando a terra perché adesso siamo purtroppo, siamo alle porte dell'inverno Anzi l'inverno si può dire che è arrivato e cominciate quello che è anche l'invernaggio delle imbarcazioni dei vostri clienti Abbiamo visto tra l'altro che avete una soluzione molto interessante per tirar fuori le barche dall'acqua che arrivano dal mare Allora sì, qui diciamo ormai il 90% delle imbarcazioni che stazionano all'interno del cantiere e arrivano tutte quante via mare Abbiamo fatto progettare questo carrello appositamente per noi affinché l'imbarcazione possa in totale sicurezza venire sul nostro scalo che è uno scalo purtroppo abbastanza lungo Questo carrello ci ha permesso di lavorare in totale sicurezza in armonia sicuramente con l'ambiente e creare una condizione tale per cui il cliente possa sentirsi quanto più tranquillo La gita di rientro sul Tevere è una cosa abbastanza piacevole Non tutti purtroppo la conoscono Noi stiamo cercando di promuovere quanto più possibile questo ambiente perché comunque alla fine tre curve da qui arrivate all'isola tiberina quindi insomma una condizione Ragonabile alla Sena che entra a Parigi, no? Quindi un po' questa la logica della navigazione sul Tevere è un fiume che è l'arteria principale che attraversa il centro di Roma Esattamente L'unica differenza è che purtroppo non è sfruttato commercialmente però qualcuno che è riuscito ad apprezzare a provare questa navigazione fluviale prima di partire per l'estate viene qui, noi mettiamo un'imbarcazione e loro si fanno un giro che può durare anche una mezza giornata si cammina in acqua dolce quindi comunque poi non si necessita di ripreparare e di rilavare il motore quindi una volta tirata su la barca ti fanno i normali controlli una pulizia e poi è pronta per partire per le vacanze Torniamo proprio a quello che succede qua nella motonave di Cazzandri noi abbiamo visto che non soltanto viene fatto ovviamente quello che è il classico lavoro di assistenza di preparazione del motore per quanto riguarda anche l'invernaggio quindi i soliti cambio dell'olio, cambio delle candele tutto quello che può essere utile a mantenere efficiente il motore avete anche, oggi eravamo qua c'era un vostro cliente che ha personalizzato un gommone in maniera proprio stravolgente cioè ha trasformato un gommone da diporto in un gommone in una macchina da pesca Sì, diciamo che sicuramente la differenza rispetto ad un normale centro assistenza qui cerchiamo di inglobare a 360 gradi quelle che sono le lavorazioni su un'imbarcazione quindi noi siamo in grado di curare l'aspetto della vetrorisina l'aspetto di faregnaveria tutto ciò che riguarda l'elettronica e quindi siamo in grado di apportare modifiche secondo le richieste del cliente su un'imbarcazione l'imbarcazione di cui tu stavi parlando è un'imbarcazione nello specifico che da un gommone comunissimo da diporto è diventato un gommone che ha una grandissima vasca del vivo un ecoscandaglio professionale e abbiamo cercato di ottimizzare tutti quelli che sono sia gli spazi che le installazioni interne per fare questo però dovete ricorrere a quello che poi è una vera artigianalità perché lì il pezzo è unico è un pezzo che voi progettate disegnate su richiesta del cliente per lui non è che esiste sul mercato non è un accessorio no, sono tutti quanti dei one-off diciamo che questo ci permette di dare un pochettino un'esclusività al cliente non siamo, voglio dire, più bravi di nessun altro però così facendo permettiamo al cliente di customizzare la propria imbarcazione a sua immagine e somiglianza quindi in quel caso abbiamo eseguito una lavorazione per trasformare un gommone da diporto a un gommone prettamente da pesca in altri casi magari per chi vuole avere dei spazi diversi all'interno dell'imbarcazione riusciamo a fare delle modifiche non strutturali ovviamente che permettono di fruire maggiormente quella che è l'area della stessa da lì poi comunque facciamo una serie di lavorazioni che sicuramente sono ciò che un pochettino ci differenzia noi qui ci occupiamo di riverniciare le barche quindi fare lavori di meccanica sotto tutti gli aspetti una volta all'anno circa riusciamo a tirar fuori un prodotto sul quale è stato fatto un refitting totale lo scorso anno abbiamo lavorato su un vecchissimo Boston una barca che ha ormai 30 anni che abbiamo rifatto totalmente quindi dall'opera viva all'opera morta la barca è stata portata a nuovo sono stati sbarcati i motori sono stati portati a zero e quindi voglio dire si è ridata vita a quella che era una barca che magari vedendole così in un porto sembrava più che altro una barca abbandonata non soltanto tutto quello che avevi detto lavorazioni importanti per l'invernaggio per tutto quello che è l'assistenza poi chiaramente c'è anche quello che oggi purtroppo è un momento un po' difficile dove il nuovo va un po' a rilento però voi rappresentate marchi che hanno fatto storie nella nautica avete Joker, avete capelli insomma, avete Yamaha per quanto riguarda i motori fuori bordo è un momento sicuramente difficile però voi avete sposato da tanti anni questi marchi questo dà sicuramente anche al cliente la tranquillità che quando viene da voi non è che trova un giorno un prodotto e un giorno un altro avete creduto in quel marchio ci avete creduto da tantissimi anni e da tanti anni collaborate con loro addirittura magari con qualche modello siete intervenuti direttamente chiedendo di fare un modello specifico per magari quello che può essere la zona del Lazio sicuramente noi abbiamo deciso di sposare questo metodo di essere dei monomandatari questo ci permette sicuramente di impegnarci e conoscere al meglio un prodotto perché sicuramente l'esperienza viene dalla conoscenza Yamaha credo che sono quasi 30 anni che viene da noi rappresentata così come quasi dello stesso periodo è la Jogger noi ovviamente riusciamo così a poter interloquire con le varie aziende e poter quindi poter avere quel confronto che è necessario per poter essere sempre attenti a quello che può essere la richiesta del cliente o anche evidentemente a quelli che possono essere problemi che inevitabilmente si vengono a creare anche durante la stagione e quindi poter essere solerti nelle risposte e negli interventi e questo poi sottolinea anche la serietà della motonautica Zandri che quando sposa un marchio non è un matrimonio frivolo come succede magari nelle coppie oggi purtroppo si sposano dopo un anno o due sono già separati questo è un segnale è qualcosa che dà serietà all'azienda vostra alle aziende con cui collaborate sicuramente perché quando si sposa un marchio lo si fa prima magari perdendo qualche anno di ricerca per non sbagliare e quindi per proporre al vostro pubblico, ai vostri clienti qualcosa che voi prima di loro avete già testato avete già conosciuto e avete creduto in quel marchio e avete deciso di sposarlo e questo lo testimoni negli anni che hai raccontato tu 30 anni di matrimonio con Yamaha avete già fatto le nozze d'argento puntate alle nozze d'oro ma sì, diciamo che questo è un pochettino ciò che riesce a differenziarci rispetto ad altre realtà e che vi premia anno per anno diciamo sì io mi ritengo molto soddisfatto anche se il periodo è evidentemente un periodo abbastanza difficile però così facendo siamo riusciti e riusciamo a mantenere uno standard sicuramente abbastanza alto senza peccare di presunzione però lavorando comunque vuol dire diventa un discorso anche di routine lavorando sempre con lo stesso prodotto l'esperienza accresce di giorno in giorno e ci permette quindi di poter come dicevo prima rispondere a quelle che sono le domande a quelli che sono come buon costume dire come sono i post che la gente oggi ci prospetta questo ripeto è una scelta che spero nel tempo pagherà noi sicuramente siamo sicuri di quello che sarà il futuro della motonautica Zandri perché tanti anni non si cancellano nonostante il momento difficile e tante persone hanno creduto in voi continueranno a crederci chiaramente i numeri cambiano cambieranno sicuramente anche i costumi gli usi le imbarcazioni saranno diverse voi siete già ovviamente avanti avete già intuito quelli che possono essere i prodotti giusti da proporre sul mercato le fiere che verranno c'è la Big Blue lo dimostreranno stasera invece noi ti aspettiamo ovviamente la festa la festa della motonautica non c'entra nulla con quello che è la nautica di Porto però per te è un ritorno è un'occasione per tornare a mettere quasi il casco ma sì diciamo innanzitutto una serata in cui rincontrerò i miei colleghi avversari e poi sicuramente voglio dire io non ho mai detto ad oggi di aver attaccato il casco al chiodo quindi indubbiamente cercherò di risistemare di prepararmi al meglio per poter dare il massimo in una prossima gara e noi ci auguriamo di vedere la bandiera scacchia ancora sventolare per tante volte quando per tre anni hai vinto il mondiale noi ci auguriamo di vederti per un altro triennio magari su quel podio mondiale che ti ha regalato grandi soddisfazioni a te e sicuramente alla Joker che ha potuto festeggiare con te questi tre titoli perché ricordiamo tu sei un grande pilota il mezzo dice la sua no no sicuramente il mezzo è stato decisivo nel caso è Joker yamaka i due marchi con le quali tu da sempre hai deciso di lavorare come dicevamo prima un matrimonio che dura tanti anni e tu hai deciso di correre proprio con questo binomio un binomio vincente grazie anche le tue capacità ma indubbiamente possiamo dire che è al 50% la vittoria che poi voglio dire il motore diciamo che deve mettere la fidabilità ed è fondamentale arrivare a prendere la bandiera a scacchi perché ricordiamo che nelle gare se non prendi la bandiera a scacchi sei out e quindi se poi la prendi per primo diciamo che lì qualche merito lo diamo anche alla carena che sicuramente ci ha messo del suo con tutto il mezzo con la sua con la sua struttura con la sua idrodinamica che permette di sfruttare al meglio il motore e poi se abbiamo il volante Cristiano Zandri che non tira mai indietro la leva beh il gioco è fatto ma sì ripeto io cerco di dare il massimo tutto questo ovviamente se è coadjuvato da due mezzi in grado di assistermi ti aspettiamo stasera per festeggiare quello che è il tuo sport rimarrà tale e noi stasera festeggiamo a terra ma ti aspettiamo per festeggiare poi sui campi di gara grazie a più tardi ciao Cristiano il mondo secondo me comunque è un'impresa anche perché veniamo comunque è una barca che ha vinto tutto ha vinto anche il mondiale nel 2004 a Napoli non esiste ancora un marina si continua prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico con